Ben trovati, ben trovati a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Sentieri d'Amore, la nostra rubrica dedicata alla psicologia delle relazioni affettive, sostanzialmente dedicata alla coppia, ma alla coppia che vuole crescere e vivere e costruire una relazione amorevole, non alla coppia che crede che l'amore sia qualcosa di spontaneo, che quando si esaurisce è finito, alle coppie che vogliono costruire davvero qualcosa. Ecco, questo è l'augurio che facciamo a tutte le coppie. Oggi parliamo di un aspetto a mio avviso fondamentale nella costruzione di una coppia. Parliamo proprio di una pretesa che, vedremo anche da dove nasce, anzi ve lo dico, che è nata dal romanticismo, dai film, dalle canzoni, da tutto questo ambiente che cerca di dirci che esiste l'altra metà della mela e che basta incontrarsi e poi la mela diventa sana, perfetta, duratura e dolcissima, rovina molte coppie. Qual è questa pretesa? è la pretesa di assoluto che c'è nella coppia, la pretesa totalizzante. Che vuol dire? Vuol dire ora ci siamo incontrati, tu sei tutto per me, tu riesci a colmare ogni mio vuoto, tu sei il mio mondo, io sono il tuo mondo, tu sei tutto e io sono tutto per te. Da dove possiamo partire per analizzare bene questo fenomeno? Dalle frasi che sento spesso dire nelle coppie. Perché mio marito dovrebbe avere un'amica? Io non gli basto come amica? Perché mia moglie dovrebbe parlare col collega? Ce l'ha già un uomo con cui parlare, sono io. Perché dovrebbe uscire con una comitiva in cui io non ci sono? Non gli basto io e la nostra comitiva? Perché deve avere lui, lei, un hobby che a me non piace e non possiamo condividere? Allora cerca di fuggire da casa, dalla coppia. Ecco, tutte queste lamentele restituiscono la stessa identica idea. Quella che vogliamo bastare a un'altra persona. Sentite come suona. Io non le basto o io non gli basto. Perché l'altra persona deve essere per me semplicemente amico o amica, beh le dico tutte al femminile perché mi viene più spontaneo. L'altra persona, mia moglie deve essere l'amica, l'amante, la mamma, la socia, la collega, il mentore, il punto di riferimento, la mamma dei nostri figli. Manca solo che dica la cugina e la cognata e le ho comprese tutte. Può essere vero questo? No. E allora iniziamo a pensare, iniziamo a così valutare un po' che cosa provoca tutto questo. Innanzitutto ha un impatto sull'altra persona e provoca senso di soffocamento. Dopo un po' all'inizio è bellissimo. Io sono tutto, tu sei tutto. Dopo un po' però se vedo solo te, sento solo te e io devo essere tutto per te, devo diventare il postino, l'idraulico, l'amante, l'amico, il cognato, il cugino. Dopo un po' io soffoco in quel mondo. Quindi senso di soffocamento. Questo senso di soffocamento procura risentimento. Risentimento. E spesso l'allontanamento nelle coppie avviene proprio perché ci sono piccoli risentimenti quotidiani che, come dire, si sommano e non ne usciamo più. Qual è l'aspetto peggiore però? È la mancanza di autonomia. Che cosa provoca questo? Che c'è un controllo pressante sull'altro. E il controllo non è solo fisico dove sei, che fai. È proprio di cosa hai bisogno. Tutto questo nasce dall'idea che è strano, quasi assurdo, innaturale, che una persona abbia bisogni che non possono essere soddisfatti in coppia. In realtà, ho preso un paio di appunti proprio per vederli un po' tutti. Eccoli qui. Ah, perfetto. Allora, vediamo alcuni bisogni che abbiamo. Abbiamo bisogni che partono da quelli fisici e nelle coppie si spera che il bisogno di sessualità venga soddisfatto solo in coppia e fin lì ci siamo. Ognuno libero di avere le proprie idee, però diciamo che perlomeno ci si attende quello. Poi abbiamo bisogni intellettuali e una persona non può bastare a colmare il bisogno intellettuale di un altro. Perché nel bisogno intellettuale c'è voglia di confronto, di conoscere nuove cose. E se io parlo solo con te, tesoro mio bello, io non posso conoscere altre cose. Conosco già come la pensi. È bello dialogare, ma si mantiene il dialogo, amore mio bello, solo se tu parli con altre x persone, io parlo con altre x persone, io vado a un corso, tu vai a un altro, io seguo un video, tu ne segui un altro. Se c'è confronto, se io conosco altre persone e dialogo con altre persone e ho relazioni altre da te, allora il dialogo tra di noi rimarrà sempre sano, costruttivo e soprattutto sempre acceso, perché ognuno porta delle novità. Poi c'è bisogno per esempio di crescita professionale e non posso confrontarmi col mio partner per la crescita professionale, quindi ho bisogno di altre persone. Poi c'è il bisogno di mantenere e sentire salde le proprie radici. Perché se mi mancano le radici sottipiedi, io sfogherò in coppia. E le radici sono gli amici di sempre, la famiglia d'origine, le persone con cui sono cresciuto. E quel bisogno non puoi soddisfarlo tu. Poi c'è bisogno, questo ora fa molto arrabbiare tante persone, tante, soprattutto i possessivi e gelosi ora spegneranno il video e mi aspetteranno sotto lo studio armate di cattive intenzioni. C'è bisogno anche di un confronto con un femminile o con un maschile, quindi con una persona dello stesso sesso del nostro partner, diverso dalla coppia. Anche per parlare della coppia. Quindi l'amica, la sorella, l'amico, il fratello, la persona di riferimento, non è sbagliato assurdo che ci sia. Perché un femminile diverso da quello di mia moglie può aiutarmi a comprendere le dinamiche della coppia, mia moglie stessa. Un maschile diverso da me può aiutare mia moglie a vedere queste cose. La gelosia ci ferma a dire ma perché devi parlare con un altro, con un'altra delle nostre dinamiche? Ma quello è un bisogno naturale, avere un punto di vista esterno sulla coppia. Ripeto, so già che mi aspetterete qua sotto, ma... Ah, avevo segnato bisogni spirituali. Bisogni spirituali. Si può avere una spiritualità di coppia? Assolutamente sì, ma non posso esaurire i miei bisogni spirituali in coppia. Poi si ha bisogno, sentite questo, questa è una mazzata qua per i gelosi, si ha bisogno di una propria individualità che vuol dire proprie attività, propri spazi, proprie idee, propri momenti. Quello non vuol dire togliere. L'idea è che ogni cosa venga fatta contro la coppia. Se vai dagli amici perché non ti basto io? No, non mi basti, non puoi essere il mio migliore amico. Mi dispiace, non sei il mio migliore amico. Non giochi nemmeno a calcetto, quindi no. Se mi confronto, parlo con una collega, vabbè potevi chiedere a me. No, è una collega. Poi chiedo anche a te, ma mi serve anche, il supporto di una collega in questo caso. Il confronto con una collega. Se ho bisogno spirituale, ho delle persone con cui condivido cose molto importanti della mia spiritualità. E se mai perché? Perché credo che loro possano darmi qualcosa per il mio percorso. Può essere una comunità di riferimento, possono essere singole persone. E non è perché non ti basto io. Allora, cerchiamo di capire che noi possiamo dare tutto all'altro in coppia, ma non possiamo essere tutto per l'altro. E già dare tutto noi stessi indica una forma di amore malato, perché se non tengo nulla per me, io non posso essere nulla per te. Cioè, se io perdo la mia individualità, tu non avrai un altro da amare. E quindi già l'amore è malato. Ma ammesso che io do tutto, non posso per questo accusare l'altro del fatto che non trova tutto in me. Perché l'altro ha bisogno, esigenze assolutamente individuali. E se io cresco e lo vedo, smetterò di pretendere. E anzi, contribuirò a che l'altro possa avere una vita ricca per portarla poi in coppia. E io farò lo stesso. Crescere insieme vuol dire non chiudersi al mondo e creare due prigionieri, ma aprirsi per riportare poi nel confronto e nella coppia tutta l'energia che prendiamo fuori. Ultima cosa. vediamo che questo bisogno di essere tutto per qualcuno molto spesso nasconde una fragilità di fondo e un senso di inferiorità, di inutilità che noi abbiamo verso noi stessi. Che voglio dire che spesso, se non bastiamo a noi stessi, vogliamo che l'altro ci guardi per dirci tu sei tutto per me. E speriamo che quel tutto ci salvi. Che quel tutto, quell'essere tutto per te, mi faccia percepire un senso di pienezza. Ma così non è. È solo possesso. È solo perché finché non ci guardiamo con i nostri occhi, finché non riusciamo noi ad apprezzare noi stessi, anche se l'altro per un periodo di tempo limitato, perché poi scoppierà questo, ve lo garantisco, davvero io poche cose garantiscono, questo mi sento di dirlo, perché se soffochi un qualunque animale poi tende a scappare, proprio per istinto di sopravvivenza e noi non facciamo eccezione. Se una persona dovesse sopportare e farti vedere per un periodo di tempo solo tu, taglio con i miei familiari, con i miei amici, sei solo tu il mio mondo, anche in quel momento, per quanto ci sia una gioia egoistica, una soddisfazione, nemmeno tanto sottile ma evidente, non riempie il vuoto che noi abbiamo. Allora lavoriamo su di noi per darci libertà e saper dare la stessa libertà all'altro per evitare la coppia totalizzante. Come dico da anni, se qualcuno dice guarda io vedo solo te, amo solo te, tu sei il mio universo, vuoi stare con me? Scappa, scappa, perché ti sta invitando in una prigione, sta aprendo la porta e stai dicendo guarda qui, dai entra 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 e poi ti chiudi. Ok? Lo so, lo so bene e chiudiamo così. Ci saranno tanti commenti, allora l'amore che cos'è? L'amore è un'altra cosa, non è chiudere le persone in gabbia, chiudendosi con loro per dire almeno ci sono io che posso essere tutto per te. L'amore è libertà, possiamo comprenderlo, sì, no, con le giuste eccezioni, tutto quello che volete davvero, però iniziamo ad aprire poco poco gli occhi e a vedere che una relazione totalizzante ci strozza, ci soffoca, toglie l'aria, ci uccide. Ok, allora se per caso siete d'accordo mettete un like a questo video e mandatelo alle persone, condividete con le persone a cui credete possa essere utile, avere anche questa visione, è la verità? Non lo so, ok? Non dico è la verità, dico però è uno spunto di riflessione, assolutamente sì, poi ognuno, ecco, lo adatta al proprio modo di essere, di vedere, prende qualcosina, cerca di capire come gli stride o gli suona dentro, ok? Quindi se vi piace like e condividetelo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati, aggiornate sui nostri contenuti, non solo su questa rubrica che sentieri d'amore ma su tutto quello che condividiamo e se volete potete sostenete questo canale, potete farlo in due modi, con il pulsante grazie che trovate qui alla destra del video sotto, se non lo vedete cliccate sui tre puntini e vi esce il grazie, potete dare una tantum, una volta qualche euro se volete sostenere questo progetto di divulgazione gratuita e quindi permettere che cresca e che possa offrire sempre nuovi contenuti utili, concreti per tutti, oppure potete abbonarvi con pochi euro al mese e sostenere in maniera più continuativa a questo progetto. E noi ci vediamo la prossima volta.